Ok, allora ragazzuoli, qui ha imbannato tutto, qui ha imbannato tutto, qui ha imbannato tutto, ragazzi. Allora, adesso la ingrandiamo e andiamo a parlare un pochino di quello che hanno fatto, perché bisogna prima di tutto leggere quello che scrivono e poi andare a verificare tante cose. Allora, parto dicendo che nel mio video pre-ban, grazie Luca, grazie mille, benvenuto tra gli abbonati, grazie di cuore. Allora, ci ho beccato, ragazzi, ci ho beccato praticamente su tutto. Allora, partiamo dalla cosa più semplice, perché in questo annuncio del 26 di agosto, ragazzi, dovevano fare qualcosa sui formati problematici. Standard è il formato più bello di Magic. Punto. Attualmente Standard è l'unico formato sano e, giustamente, no changes. E sono stra-d'accordo su non aver toccato niente in Standard. Primo, perché sta per uscire DuskMorne, esce un'espansione al mese. È inutile, ragazzi, andare a toccare un formato che cambia così repentinamente da solo. Secondo, esce Foundation. Andare a toccare Standard prima di Foundation era follia. Salvo che con DuskMorne arrivi qualcosa che rompe tutto, ok? Quindi, assolutamente d'accordo con il no changes in Standard. Poi, Pioneer serviva coraggio. Lo hanno avuto. Bannano i due mazzi più giocati, che sono due mazzi simili combo. Nembo aveva ragione. E bannato sia Amalia che Soarin. Che sono esattamente le due carte che avevo detto anch'io. E sono contentissimo di questa cosa. E sono contentissimo. Intanto sono wildcard che ridanno, assolutamente sì. Fra se hai le wildcard di Amalia e di Soarin, se hai le carte di Amalia e Soarin, ti ridanno l'equivalente in wildcard. Quindi, tanta tanta roba. Sono contento di questo ban in Pioneer? Sì. 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 Primo, partiamo da Amalia. Pioneer non vuole mazzi combo nel suo formato. La Wizard non vuole che Pioneer abbia mazzi combo nel suo formato. Era vergognoso che ci fosse Amalia. Secondo, Soarin. Show and tell unilaterale è una carta che potenzialmente sarà problematica. In futuro, ogni qualvolta si stampa un vampiro grosso, è giusto che sia stata bannata da un formato come Pioneer, che ha dei limiti nelle risposte, ragazzi. Poi andiamo sul modern. Nadu bannato. Oh, non bannano Shuko, non banno niente. Banda il piccione. Va bene. Però, raga, leggiamo sotto, per favore. Leggiamo sotto, per favore. Leggiamo sotto, per favore. Non si può più scammare. Non si può più scammare in modern. Dopo il bandi Fury, arriva anche il bandi Grif. Anche il Legacy, tra l'altro. Allora, io vi dico questo. Grif, secondo me, è un errore di design. Come era stato un errore di design l'Urrus, al tempo, i primi Companion, no? Sono carte che da sole vanno bene. Grande zappone, grazie di cuore. Grazie mille. Sono carte che da sole possono anche esserci in Magic. Il problema è quando le accomuni a carte che le rompono. E scammare Grif, o rianimare all'infinito con l'Urrus praticamente gratis, perché al tempo non costava neanche tre mana aggiungerlo, era chiaramente qualcosa di sbagliato. E quindi, finalmente, prendono coscienza di questa cosa e vanno a togliere dal modern e dal legacy Grif. Ed è tanta, tanta roba. Ed è tanta, tanta roba. Dopo ti rispondo, Fra. Se mi dimentico, riscrivimelo. Regà, cioè, era normale. Poi restringono in vintage Urza Saga, vabbè, ma il vintage è un mondo a parte, ragazzi, non sto qui neanche a commentarlo, perché non saprei dirvi le cose. Andiamo ai lati negativi. Come sapevamo, per Arena, no changes. Adesso io vi dirò che sono arrabbiato, che che potevano essere più coraggiosi su Arena. Posso dirvi che hanno fatto bene, hanno fatto male. Raga, no, purtroppo non è giusta questa gestione di Arena. Non è giusta questa gestione, io ve lo dico, questa gestione di historic, timeless, al che mi va bene, appena ruotato, questa gestione di historic e timeless, secondo me, non è buona. non capisco perché l'abbiano fatto, però l'errore è a monte. L'errore è quando hanno deciso di nerfare i due pezzi per Energy e non il problema vero di Energy. Quindi era normale che in questa banhead, come ho sempre detto, non ci sarebbero stati cambi per Arena, però il fatto anche che non abbiano riconosciuto il problema il problema di Ajani e Bombardment in historic vuol dire che non gli interessa il formato, ragazzi. Abbiamo ancora una volta la conferma che non gli interessa il formato e in secondo luogo non andare ancora una volta a gestire timeless, anche se ve l'ho detto, secondo me guarderanno la metagame e il qualifier per avere un sunto della situazione timeless, è comunque una mancata capacità di gestione di un formato così ampio. Mi spiego, non che timeless abbia un pool di carte troppo complicato come Legacy, ma è da Wizard of the Coast non prendersi la responsabilità di gestire dei formati grandi per tempo, come hanno fatto sempre in Legacy, infatti questo ban di Griffey in Legacy per quanto giusto è in ritardo, è molto in ritardo, eh ragazzi, è molto in ritardo, però è corretto, quantomeno è corretto. Sono molto contento per Pioneer, non credo che Fenici tornerà ad essere troppo problematico anche perché abbiamo già visto che Fenici comunque si è gestito in altri modi, rimane il problema rimane il problema che in Pioneer Explorer esistano praticamente due formati diversi e non capisco perché, bisogna vedere in Pioneer quanto adesso diventa forte l'Hotus Field combo e aggro perché ricordiamo che c'è anche Monored barra Grul che è comunque un ottimo mazzo, però questo ban in particolare potrebbe far tornare anche Grisfang potrebbe far tornare anche Grisfang come mazzo vero perché tendenzialmente siamo andati a togliere i mazzi con la winrate più alta e possono tornare tutti quei mazzetti che venivano un po' diciamo così maciullati da da questi due mazzi qua secondo me chi ne esce veramente forte è aggro perché aggro secondo me senza Amalia e senza Sorin è vincitore però va bene ci sta una bella scossuna al formato ci hanno messo troppo perché se ci pensate anche quando avevano bannato Nick Toss ci hanno messo una vita no Nick Toss scusate Carnino ci hanno messo una vita ci hanno messo una vita e anche in questo caso ci hanno messo una vita da domani potrebbe essere Pioneer barra Explorer il formato più bello di Arena ma potrebbe anche essere dopo questi cambi certo è che lasciarlo così senza introdurre carte nuove se non con le rotazioni standard e con le espansioni standard è un rischio è un rischio è un rischio andiamo a toccare la questione Modern ha ragione il prof nel dire che adesso potrebbe essere troppo forte Energy però è anche vero che senza Nado possono tornare altri mazzi quindi tempo al tempo guardate sarei quasi contento che Energy fosse troppo forte perché se Energy diventa troppo forte Wizard prende coscienza della cosa e magari di riflesso da lontano possono capire che anche in istorica hanno fatto una cazzata ma andiamo a leggere le loro motivazioni allora standard è sano ragazzi non serve a niente non serve secondo me non serve neanche andare a leggere standard perché non non c'era nulla da da pensare il 30% qui hanno preso i numeri per quanto riguarda i ban in Pioneer poi spiegano perché hanno bannato eccoloci qua consideriamo altre carte come Treasure Cruise e Fable of the Mirror Breaker che sono state discusse il nostro team ha deciso che il formato aveva bisogno di un deciso cambio dovevamo prendere un approccio che ci permetteva di fare dei cambi importanti necessari per ogni formato senza andare troppo veloce siamo confidenti cioè siamo fiduciosi che i cambi in questi formati li metteranno li faranno diventare ancora più divertenti ma quanto divertenti li terremo sotto controllo come terremo sotto controllo come evolveranno insomma la solita cosa la solita cosa e quindi Treasure Cruise comunque insieme a Fable è tenuta sotto il mirino da Wizard ragazzi è tenuta sotto il mirino quindi vedremo se Fenice è troppo forte Treasure Cruise sarà la prossima che ci saluta io non credo che Fable sarà tra quelle però ok grazie a Dio hanno bannato queste due carte in Modern e in Legacy Griff anche Vex in Bubble hanno restritto scusate ma qua non c'era o c'era? ah si c'era era sotto ok hanno restritto anche Vex in Bubble era fortissima tra l'altro cosa avevamo detto noi in visual spoiler di Modern Horizon 2 mi sembra che Vex in Bubble sia una carta da tutti i formati di Magic restretta in Vintage ce l'avevamo preso anche lì ce l'avevamo preso anche lì ce l'avevamo preso anche lì raga ho poco da dire sono i ban che da domani verranno saranno attivi su Magic Arena come leggete qua sono ban giusti non vedo errori in questo ban vedo l'errore solo per quanto riguarda historic qui cosa hanno scritto vediamo un po' per aggiustare il formato abbiamo ribilanciato 3 delle carte più forti ognuna delle carte ribilanciate rimane competitiva ma in linea con il power level del formato per forza non erano queste le carte problematiche quindi per forza sono rimaste in linea col formato questi rebalance hanno provato che boros energy è rimasto forte popolare senza energy che domina il metagame historic è tornato ad essere uno dei più diversi formati di arena un secondo ragazzi un secondo perché forse sono io che sono matto forse sono io che sono matto probabilmente sono io che sono matto ragazzi vado a controllare probabilmente sono io che sono matto ok probabilmente probabilmente sono io che sono matto ma ricordatevi quello che abbiamo appena letto l'hanno detto l'hanno detto loro l'hanno detto loro boros energy 26% del meta tutti gli altri mazzi partono dal 9% in giù però i nerf hanno funzionato dai wizard ti prego ma non prenderci in giro ma perché ci deve prendere in giro ma perché ma che pro a che pro questa cosa ma che pro questa cosa ma che pro questa cosa non c'è l'aggiornamento prof rimane così come se tu fai le ultime due settimane ma non cambia niente basta che fai a vedere qualsiasi altro sito ragazzi è uguale in più c'è anche mardu energy ragazzi incredibile non lo seguono secondo me non lo seguono secondo me non lo seguono ragazzi oppure può essere che stia semplicemente considerando che non hanno dati magari non hanno raccolto dati loro in questi giorni dopo il nerf oppure devono giustificare il loro nerf non lo so quello che hanno scritto non ha nessun tipo di senso logico anche perché mardu energy è il mazzo più forte di historic attualmente quindi boh boh se guardiamo no ma questi sono BO1 sono sono BO1 e BO3 insieme ragazzi non è solo BO1 quello che abbiamo appena visto no no i primi due dati sono arena ladder best of 3 e il primo e sono tutte win rate alte tutte c'è un 4013 addirittura ragazzi non lo so non capisco che dati guardino loro ma va bene andiamo a leggere timeless timeless è finalmente ha finalmente iniziato a setuparsi come formato e siamo felici che it's shaping up shaping cosa vuol dire ragazzi scusate mi manca questo termine shaping è tipo mescolarsi si sta modellando ok si sta modellando dopo le ultime aggiunte timeless ha una piccola ma appassionata community giocatori che si sfidano per creare il deck più forte boros energy è stato una sana addizione al formato per provvedere una risposta aggressiva contro contro gli altri contro il combo e mazzi in metagame energy è stata una risposta aggressiva al metagame schoentel continua ad essere strong una carta che definisce il meta dando una risalita ai dimmi rege sky contro il deck pensiamo che timeless sia pronto per il gioco competitivo e abbiamo per questo motivo abbiamo creato il qualifier va bene allora allora è vero che energy entra di prepotenza in timeless e diventa l'agro del formato anche perché rakdos non si gioca quasi più rakdos non si gioca quasi più però se riconosci che schoentel sta continuando ad essere forte la definiscono loro eh loro si si c'è scritto che energy ha fornito una risposta aggressiva a un metagame si si più o meno è quello che abbiamo detto si si grazie luca però il problema è che se schoentel lo riconoscono loro che è una carta meta definita cioè che schoentel va a definire il meta perché è questo che vuol dire meta defying card cioè il meta si deve adattare alla presenza di show and tell perché non la togli o perché non la limiti io queste cose non le capirò mai ragazzi in una compagine di carte forti come timeless c'è una carta che viene definita meta defying ma va bene la lasciamo non capisco perché sì però Nembo non cioè non va bene per il gioco anche anche coso allora anche come si chiama adesso te lo dico eh anche splinter twin era meta metadefining di modern e poi è stato una merda perché era troppo metadefining cioè non va bene non va bene se una carta viene definita metadefining vuol dire che non c'è nessun'altra carta che bilancia quella carta in power level perché perché quella carta nel momento in cui è presente in un meta il meta ci si deve adattare è vero che è più facile lavorare così perché hai un punto di riferimento parti da quello e ci costruisci tutto attorno però è un pochino impararsi il culo ragazzi eh io non sono d'accordo su questa gestione non mi piace va bene questa cosa l'accetto boros energy è diventato l'agro del formato va bene è andato un pochino a eliminare quelli che erano jund quelli che erano altre tipologie di agro deck che comunque esistevano eh jund domain chi c'era poi che rakdos c'era ur che non esistono più non esistono più quindi boros che arriva con questa nuova meccanica energy perché è nuova in timeless e in historic si fa subito portatore dell'agro sopra va bene se loro lo ritengono sano va bene però non non sopporto che loro riconoscano che show and tell è un problema ma lo giustificano si leonan ma non ha senso anche perché jeskai si gioca controllo comunque in timeless e dimir ha dimir non ha la sua versione che gioca gli orchi e gioca la rana cioè c'è esiste già un altro dimir che è molto forte non serve show and tell in dimir secondo me non ha senso questa giustificazione qua non ha senso questa è sappiamo che abbiamo un problema in show and tell ma non facciamo niente è quella cosa dicono del brawl niente niente ogni carta bannata in pioneer è bannata in king explorer quindi si ragazzi se qualcuno lo stava chiedendo prima questa qui è la giustificazione più brutta che abbia mai visto ragazzi veramente brutta tanto questa è la parte brutta della bannade tutto il resto va bene tutto il resto va bene ma questa parte qua di storica è la parte più brutta della bannade questa è veramente la parte più brutta della bannade sono lo stesso formato quasi sì quasi sì è vero non hanno detto niente degli eventi in timeless non so come mai non lo so ragazzi però magari dopo il qualifier chissà va bene poco da dire ancora nel senso che concordo in pieno con tutta la bannade peccato per arena perché arena in questa bannade esce sconfitta e è giusta è tutto giusto è tutto giusto non hanno bannato anello in modern ci sta adesso però devono vedere se senza questi due mazzi primo boros energy come si comporta secondo quanti anelli escono fuori dalla prossima top 8 a un torneo grosso perché se in top 8 dovessero esserci tutti i mazzi con anello la maggior parte sappiamo quale sarà il prossimo target di wizard va bene ragazzi io direi che possiamo andare su arena io è vero che è vero lili grande è vero è vero ciao lili andate tutti a seguire caffè in lili si sta si si ma nembo lo dicevamo prima scam distrutto proprio perché è una meccanica che rompe magic io sono convinto che è proprio stata scritta male come l'urrus come i companion senza i tre mana è stata scritta male perché non hanno pensato che fare delle evoke spell a 0 a turno 0 potessero generare situazioni in cui l'auto blink te la fa fare gratis è finita l'estate di nadu si si quindi io sono molto contento in realtà che griff e anche fury ci abbiano salutato in modern tra l'altro va bene perché torneranno anche dei mazzi un po' più creaturosi con questa cosa forse forse e come cosa non mi dispiace affatto adesso arriveranno tutti quelli che dicono non serviva niente bannare fury dovevano bannare griff sicuro 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 perché già la gente lo diceva prima già la gente lo diceva prima non sbanneranno mai ragazzi ma sapete perché non sbanneranno mai se non carte veramente inutili come sono stati gli ultimi preordain e e mind desire perché sbanna allora se sbanni hai una gestione sicura è sana del tuo gioco ora magari la gestione di wizard potrebbe essere sana io non metto beccos dove non posso dirvi se è sana o non sana ma sicuramente non è sicura perché perché la gestione non è sicura perché si capisce da certi rallentamenti del gioco certe mancanze certe mancanze e certi ritardi che c'è qualcosa che si inceppa nella gestione del gioco come se il gioco avesse bisogno di una spinta molto più veloce ma rimane con un carretto del 1800 invece che con una macchina a vapore del 1900 è incredibile soprattutto in un gioco che è il miglior gioco di carte collezionabili della storia si sente questa lentezza potevano usare arena per essere molto più rapidi e repentini nei cambiamenti potevano usare arena come un banco di prova e invece non lo fanno dovevano farlo perché il digitale ti permette di essere più veloce e di capire più velocemente dove sono le gabole del tuo gioco se avessero messo pioneer ad esempio uguale spiccicato al pioneer cartaceo su arena pensate quanto prima avrebbero potuto intervenire su amalia e sorin vedendo quanto determinanti sono sulla piattaforma in tempo breve ok quella poteva essere una metodologia di gestione sicura purtroppo se anche è sana la gestione di wizard e io ripeto non ci metto becco non ci metto becco su quello sicuramente è una gestione insicura ed è per questo motivo che non sbanneranno mai troppe cose forti ok perché se sbannano cose forti rischiano di mandare tutto a puttane la gente che grida lo sbandi splinter twin in modern non si ricorda che cos'era splinter twin e dire solamente eh ma adesso non è più quel magic lì non è sufficiente perché se mai wizard lo facesse splinter twin torna ad essere determinante hanno fatto un gran casino è questa la verità è questa la verità senza dimenticarci che siamo in un momento in cui il nostro gioco purtroppo non è messo benissimo l'abbiamo detto anche stamattina non è messo bene questo gioco la continua stampa la continua crescita del power level delle carte fa sì che il gioco sia nettamente superiore rispetto al passato andare a fare degli horizon set per alcuni set per alcuni scusate formati eternal ha portato anche gli espansioni standard a doversi adattare sempre di più sempre di più sempre di più da un power level molto allargato e molto alto questo power level molto allargato fa sì che nelle espansioni che sono pensate per lo standard arrivino delle bombe troppo preponderanti che devono esserci però devono esserci per entrare nei formati precedenti altrimenti l'espansione non può servire solo a standard e gli altri formati restano fermi e in questa maniera si crea sempre una scala sempre 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 più grossa che va a creare una degenerazione del gioco e purtroppo noi lo stiamo vivendo in pieno in pieno è una cosa bella? no è una gestione sana? no però sicuramente crea insicurezza è questo il problema vero ragazzi è questo questo ma tipo gitte che senso ha si è ancora bannato? giustissimo nembo ma nessuno si prenderà mai la briga di sbannarle ora fino a quando non hanno al 100% sicurezza che valgano 0 esattamente come preordain esattamente come preordain andiamo a giocare a magic arena io sono contento di questa banned arena è quella che ne esce sconfitta grazie a tutti grazie a tutti Grazie.